Capitolo dodicesimo di Le storie del castello di Trezza di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico Capitolo dodicesimo La storia aveva divertito tutti, anche quelli che la conoscevano di già, e che la commentavano ai nuovi venuti con la leggenda degli spiriti che avevano abitato il castello. La sera era venuta, l'ora e il racconto aiutavano le vagabonde fantasticherie dell'eccellente digestione. Luciano e la signora Matilde avevano impallidito qualche volta durante quel racconto che conoscevano. — Badate, le sussurrò egli sottovoce, vostro marito vi osserva. Ella si fece rossa, poi impallidì, guardò il mare che imbruniva, e s'avviò la prima. Scesero le scale crollanti, e giunti al basso era quasi buio. La grossa tavola che faceva da ponte levatoio sull'abisso spaventoso, il quale spalancavasi sotto la rocca, a quell'ora era un passaggio pericoloso. I più prudenti si fermarono prima di metterci il piede, e proposero di mandare al villaggio per cercarvi i lumi. — Avete paura? esclamò il signor Giordano con un sorrisetto sardonico, e si misero arditamente sullo strettissimo ponte. Sua moglie lo seguì tranquilla e un po' pallida. Luciano le tenne dietro e le strinse la mano. In quel momento, a centocinquanta metri sul precipizio, accanto a quel marito di cui s'erano svegliati i sospetti, quella stretta di mano, di furto, fra le tenebre, avea qualcosa di sovrumano. L'altro li vide, forse nell'ombra, lo indovinò, avea calcolato su di ciò. Si volse bruscamente e la chiamò per nome. Si udì un grido, un grido supremo, e la vacillò, afferrandosi a quella mano che l'avea perduta per aiutarla, e cadde con lui nell'abisso. Attrezza si dice che nelle notti di temporale si odano di nuovo dei gemiti, e si vedano dei fantasmi fra le rovine del castello. Fine del dodicesimo capitolo, letto da Francesca Roma, 31 marzo 2021. Fine delle storie del castello di Trezza, di Giovanni Verga